Perché qui da noi non si può mettere il fotovoltaico sui tetti, no? Perché al posto delle tegole che avevamo i grappoli. Energia eolica in Veneto? No! Stiamo cercando di estrarre l'energia etilica. Quando mi dico la reazione del pubblico del Vinitaly quando ho detto a battuta, te lo ricordi? Strasfaglione! Quando ho detto il vino fa male se non lo beve! Scena isterica come i batters! Non c'hanno fatto a standing ovation? Perché già dal primo giorno in piedi non è che se non riusciamo a stare tanto!